A strubale, a strubale amore mio come mi hai potuto lasciare le fiori della gioventù dopo una vita insieme. Togliato lo che pedo, non pare vivo? Non pare vivo? Ma... Manco vero me sta parerlo. Fino a sera stavo coccato che era buono buono. Io stavo di non trovare tiso tiso. E' così tiso che manco quel nera che non usava stato mai così tiso. Permesso? Buonasera. Mi presento. Dottor Santo. Cambo Santo. Sì per la marcia. Chissà solo ci mancava questa giornata. Prego mi dica. Io sono il tecnico delle pompe funerale. Ah... Vado a buttare? Lei ha fatto benissimo a rivolgersi alla nostra agenzia. Perché il nostro motto è un motto e un motto spuggiamo a vivo. Sì ma mi raccomando. Sabe? Non voglio badare a spese. E' questa strubale se lo perdava. E' questa strubale è stato tutto per me. Amore io ci voglio fare un funerale degno di un principe. Ma che cosa dico un principe? Un re! Passiamo alla prima offerta. Cassa da morto interamente in noce tanganica. Tre cuscini anatomici per eterno riposo. Foderato interamente con setatura. Quattro maniglie in oro massiccio 24 carati e mezzo. Con trasporto in Cadillac con frigobar incorporato. Con autista completamente a lutto. Neuro nella faccia e neuro nell'abito. Insomma un ducco. Io picchi e lei. Io non metto a luare manco un euro. 10.000 euro. 10.000 euro? Che ci vuole? Non sai? Che ci vuole una picca? Io capisco che ora fa il funerale insomma. E' fatto in grande stile. Lusso-osso. Ma insomma qualche cosa non ce la potevamo luare. E' che picchio lo sapi. A strubale certo. Io era buono. Ci siamo volute bene. Ma insomma ogni tanto quando si raccoglieva l'imbriaco. E mi aveva a buttare. A chiamate. A tombolate. Una volta mi rompiva i costi. Insomma va. Non è che se me ne dava tutto questo soldo spennuto che se lo andavano a mangiare i vetmi. Scusi. Non potevo fare il picco eh. Seconda offerta. Cassa da morto interamente in noce nazionale. Cuscine due. Ce ne lo amo uno. Foderato in velluto antiacaro. Ora così metto una scianuta. Maniglie placate in oro. Per trasportare una bella Mercedes. E come udista. Un udista locale in divisa comunale. E per chi è lei. Non mi ha luogo ma un euro. Cinque mila euro. Cinque mila euro. Allora lei non ha capito niente. Scusi. E che ci parla? Non è che sono picca. Cinque mila euro oggi. Per foscare cinque mila euro. Lo sapi. Ora che sacrifici. Che fare. Scusi. Lo sapi poi. A strubale citto. Lo volevo bene. Ma fatto fatto con ogni tanto una roba coppa. Lo sapi quanto corna mi fai. Disgraziato. Lei dice. Ma ora che è buono. Vero? Lei lo sta prendendo. Ora che è morto. Che non si muove. Ma sapi quando era vivo. Non ne facevano. Commenavano tutti i colori. Ora cinque mila euro. Ma non mi pare il caso. Potremmo fare il picca. Senta. Siccome noi siamo sempre dell'avviso che il cliente bisogna rispettarlo. Passiamo alla terza offerta. Cassa da morto in compensato multistrato riciclato da ex cucina componibile. Maniglie in alluminio anodizzato sempre proveniente dalla stessa cucina. Per cucina una bella cammarataria unchiata a due e otto. Per trasporto si affitta una bella lapo o fottino. Io non mi ci alluare ma anche un euro. Per chi è lei? Mille euro. Senta. Forse lei. Non mi sta capendo. Io a sdrubale ci volevo bene. Ma magari io sape qualche cunicchio ci faceva. Evidentemente non è che ci amavamo a costa assai. Ora mille euro. Insomma una volta che è morto, morto io va. Sembra da siamo. Non potevo fare qualche cosa più picca. A come ora sape mille euro. Non mi sape d'annicire. Mi ha cattato ciore. C'era stato spese. Eh scusa. Lei stesso. Che ci parla ancora assai? Certo che sono assai. Passiamo alla quarta ed ultima offerta. Cassa da morto interamente inzucciolato. Maniglie fatte con bello ferroflato. Interamente foderato con catta di giornale. E poi ci mettiamo la pagina del tuo sport che non ci piaceva per lui. Per il cuscino. Bello cuticchione di fondacchiello. Per il trasporto. Chiamo a mia cugnato che ha il bello 128 capriolet verde pestello. Ci aiuto io magari a caricarlo un tocofano. E compreso il trasporto. Compreso la benzina. Non mi ha luogo neanche un euro. 250 euro. Senta, senta. Scusi. Mi dico. Una cosa più piccola, più economica. Questi entrano altri. Non si può combinare. Paramolo chiaro. Assenta. Io ci faccio l'ultima offerta che lei non mi può fare negativa. Se procurasse un bello sacco di monizze di 100 kg. Un sacco di monizze eh? Se non ci capisco, piegiamo noi. Ognuno capisco. Io facciamo da entrare. Anzi, ci aiuto io a caccarlo da entrare. Una bella carriola si procura. E con 15 euro se ne esce. 15 euro? 15 euro. 15 euro. 15 euro è buono. Buono. Affare fatto? Affare fatto. C'è pieno sui cinque. Luvatevi. Luvatevi avanti tutti noi eh? O me? O moto? A strubale? A buricisti? Ora dici anche qua? Cazzo vuoi appena cimitero? Appena cimitero! Appena cimitero!